E' San Martino Buonalbergo ad ospitare il campionato regionale Veneto riservato agli juniores per il 2019. Una prova, quella valida anche per il secondo trofeo città di San Martino Buonalbergo, messa in cantiere dalla UC Valdillasi in collaborazione con Verona Economia, con Ciclistica Montoriese, con il gruppo degli Alpini di San Martino Buonalbergo, il comitato civico di Marcellise e la Sacra dei Sparagi di Mambrotta. Una prova che segnerà appunto il primo titolo stagionale, quello regionale, la maglia rossa con il Leone di San Marco. Alla via tutte le migliori formazioni venete per un centinaio di atleti in gara. Ad abbassare la bandierina dello start il presidente regionale Egino Micheletto e l'olimpionico di Roma 1960 Sergio Bianchetto. Non c'è nemmeno il tempo per registrare i dati della partenza ed ecco che si assiste alla prima fuga di giornata. Tentare l'allungo sono Alberto Zenati della Sali-Stefan Omap e Niccolò Tolomio della SC Padovani. Per loro un vantaggio massimo che raggiunge il minuto sul gruppo che continua comunque a controllare l'azione dei due battistrada. Giornata di pioggia per gli Uniones Veneti in un sabato che appunto metteva in paglio il titolo regionale. Sempre le maglie della Sali-Stefan Omap a controllare l'azione in testa al gruppo, a difendere quello che è l'allungo portato da Alberto Zenati e Niccolò Tolomio, che però verranno raggiunti quando si giunge alle pendici della salita di giornata. Si tratta della salita che conduce a Piani di Castagnè, 5 km con una pendenza media del 4%, una salita da affrontare con il lungo rapporto, non piove più sulla corsa ma spira un forte vento. Infatti oltre alla salita anche il vento iniziano a miettere le prime vittime in salita. Gruppo allungatissimo al primo passaggio sulla salita di Piani di Castagnè, che poi si spezza nel corso del seconda tornata e con le immagini ci spostiamo già all'ultimo passaggio in salita. Vedete, a condurre l'azione ad imporre il proprio ritmo è Elia Alessio della UC Giorgione, sulle sue tracce un drappello di una quindicina di unità che selezionerà i migliori di giornata che andranno a giocarsi il tutto per tutto nello sprint finale. Parte lunghissimo Simone Raccani della Borgomolino Rinascita Ormelle, che giunge tutto solo sul rettifilo d'arrivo e si giudica così il titolo regionale davanti ad Elia Alessio della UC Giorgione e al compagno di squadra Davide Depretto della Borgomolino Rinascita Ormelle. Simone Raccani, una vittoria che vale questa volta il titolo di campione regionale Veneto. Sì, finalmente sono riuscito a vincere. L'anno scorso, dal primo anno junior, ho fatto secondo. Quest'anno ci tenevo a vincere questo titolo. In salita ho provato ad andare via ma hanno chiuso su di me in discesa. Ho chiuso sui due che c'erano fuori in fuga e poi sono partito verso gli ultimi due chilometri. Ho dato tutto e sono riuscito a vincere. Siete partiti con la pioggia, poi tanto vento. Una giornata difficile, però ne è valsa la pena. Sì, è una giornata difficile, ma sicuramente ne è valsa la pena. Ringrazio tutti i miei compagni, in particolare Davide Cattelan, che dopo la caduta al secondo giro in salita è riuscito a farmi rientrare nel migliore dei modi. Il ringraziamento va a lui, ma anche a tutti gli altri miei compagni di squadra, gli sponsor, il presidente, il vicepresidente e infine i miei genitori che mi seguono sempre. Secondo successo stagionale dunque per Simone Raccani, quinta affermazione del 2019 per la Borgomolino rinascita Ormelle e grande soddisfazione a San Martino Buonalbergo per una gara che ha regalato spettacolo, emozioni e che ha fatto vivere una giornata di grande ciclismo. La chiusura dunque è dedicata all'amministrazione comunale. Siamo con Giulio Furlani, assessore allo sport della comune di San Martino Buonalbergo. Un successo questo campionato regionale veneto riservato agli juniores. Oggi insomma si è conclusa la seconda trofeo San Martino Buonalbergo, la seconda edizione come lo scorso anno di grande successo. Oggi il tempo comunque ci ha voluto bene, non ha piovuto il vento, i ragazzi hanno corso, si sono anche, come si dice, giocati anche fra di tono, ci hanno detto anche durante i vari percorsi e le salite che si sono susseguite. Adesso si è concluso, sono tutti contenti, giovani bisogna dare anche queste possibilità, insomma la seconda edizione che speriamo insomma anche nel futuro, insomma di procedere e continuare insomma in queste attività. Insomma ecco perché sport giovane è diverso, inteso dagli, che mi ha considerato sempre sport minore, ma deve avere anche lui il suo spazio, insomma in tutte le sue attività, insomma ecco perché vediamo ragazzi, preparatori, staff che li seguono e quindi è giusto insomma dare anche loro questi spazi e opportunità, insomma ecco. Un'organizzazione di alto livello e soprattutto tanto pubblico sulla retta d'arrivo, significa che il ciclismo San Martino di Buonalbergo è di casa? Allora beh il ciclismo di San Martino, torniamo dietro negli anni, anzi in 40-50 anni fa dove abbiamo avuto anche due campioni olimpici, Dino Verzin e Gonzato che sono qui ancora residenti a San Martino. Questa organizzazione è affidata all'Unione Ciclistica Valdillasi, con cui collaboriamo, è stata collaborata, quindi c'è sinergia anche tra altre realtà, perché con le nuove normative, con le nuove strutture, bisogna fare sinergia di forze, di mezzi e anche economici, insomma ecco. Quindi grande rete, grande lavoro e se va bene anche un grande risultato, insomma.